alluvione e stato d'emergenza fissato confronto a palazzo chigi infortuni sul lavoro cgl invoca investimenti su prevenzione arredi e pedonalizzazione via le trieste si rifà il look a fano la prima edizione di giovani in festival dalla guerra a cento candeline storie di longevità pesarese buona serata a tutti voi pubblico di Rossini tv ben ritrovati al nostro spazio informativo di Rossini news primo telegiornale di questo mese di giugno primo telegiornale in questa nuova fascia oraria che vi abbiamo annunciato nelle ultime giornate Rossini news da questo giovedì primo giugno comincia alle 19.30 per quello che riguarda la prima edizione con prima replica alle 20.30 e dunque un anticipo di 10 minuti rispetto alle precedenti abitudini telegiornale dicevamo di giovedì primo di giugno che apriamo occupandoci degli sviluppi sullo stato d'emergenza nella provincia di pesero urbino relativo ai danneggiamenti subiti nell'ondata alluvionale del mese di maggio che ci siamo appena lasciati alle spalle è stato infatti fissato per mercoledì 7 giugno a palazzo chigi l'incontro fra il governo e territori colpiti che nell'occasione saranno rappresentati dal presidente della regione marche francesca cuaroli e dal presidente della provincia di pesero urbino giuseppe paolini oltre che naturalmente al presidente dell'emilia romagna bonaccini e i presidenti di provincia e sindaci dei territori romagnoli messi in ginocchio dall'ondata alluvionale delegazioni che nell'occasione si interfacceranno con il vice presidente del consiglio matteo salvini e con i ministri competenti sul tavolo di confronto le misure fin qui reputate insufficienti per le marche che sono state inserite nello stato d'emergenza solo con sette comuni del pesarese cambiamo argomento e come ieri torniamo ad occuparci della tematica degli incidenti sul lavoro ieri infatti vi abbiamo aggiornato sull'ultimo episodio avvenuto 15 giorni fa durante la costruzione del teatro di bottega di valle foglia una tematica sulla quale la cgl provinciale enfatizza ancora tante carenze a livello di tutele e di prevenzione sono numeri impressionanti quelli che di anno in anno emergono sugli infortuni sul posto di lavoro una piaga sociale che in italia ha visto nel 2022 un incremento del 25,7 per cento rispetto al 2021 e del 25,9 rispetto al 2020 nello scorso anno solare sono stati poco meno di 698 mila gli infortuni denunciati con i settori di edilizia e agricoltura quelli maggiormente colpiti un cambio di tendenza che non sembra purtroppo esserci dove la vita e la salute delle persone viene quotidianamente messa in pericolo dalla poca attenzione che si riversa su questa tematica proprio per questo secondo cgl edilizia di pesaro urbino occorre investire sin da subito in prevenzione formazione dietro questi numeri ci sono la vita delle persone che ogni giorno escono di casa e con e sono persone con una propria dignità e dei propri diritti e non è giusto che qualcuna di queste non faccia non faccia ritorno non faccia ritorno a casa noi su questo abbiamo abbiamo due soluzioni una è quella che nelle scuole superiori deve essere insegnata come materia la sicurezza sul lavoro in modo da ricreare quella cultura appunto della sicurezza sul lavoro che faccia diciamo comprendere quali sono i rischi a tutti a quelli che saranno i futuri lavoratori l'altra cosa che 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 noi auspichiamo è il reato di omicidio sul lavoro il reato di omicidio sul lavoro che prevede anche il sequestro dei che dovrebbe prevedere anche il sequestro dei beni da parte delle delle degli organi competenti appunto per dare un giusto risarcimento alla alla famiglia l'altra cosa che invece ci terrei a dire è che secondo me dovrebbero essere introdotte nelle gare d'appalto la cosiddetta patente appunti ossia le aziende che partecipano alle ai bandi di gara chi ha avuto meno infortuni e chi investe più in sicurezza sul lavoro deve avere un punteggio più alto rispetto rispetto alle altre aziende la prevenzione è importantissima parlavo prima di scuola edile e a tutte le ditte che applicano il contratto edile devono fare per chi entra per la prima volta in cantiere 16 ore di formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro e poi ogni anno vengono fatte otto ore di aggiornamento probabilmente queste ore non sono sufficienti ci vogliono ci vogliono più ore più ore di prevenzione sia per fronteggiare gli infortuni ma anche le morti a causa di incidenti sul lavoro nell'intero 2022 secondo le rilevazioni di inail il numero dei caduti è di 1090 pari a tre decessi al giorno con un'inflessione rispetto al 2021 che ha contato 131 morti in più sono tanti sono cifre da da guerra una maggiore incidenza su queste morti di lavoratori che hanno un'età elevata quindi anche questo bisognerebbe fare un ragionamento sull'età pensionabile dei lavoratori edili che noi riteniamo che questo lavoro sia un lavoro altamente usurante per cui chi lavora in questa in questo settore dovrebbe riuscire ad andare ad andare in pensione prima l'altra cosa è il periodo in cui avvengono gli infortuni o le morti sul lavoro molti di questi avvengono il lunedì mattina oppure il venerdì pomeriggio quando diciamo l'attenzione dei lavoratori è più bassa. CGL come interviene in questi casi in cui si presenta un infortunio sul lavoro? Allora ci sono due tipi di interventi che si fanno il primo è quello classico in cui apriamo la pratica di infortunio del lavoratore la inviamo all'Inail per il pagamento del salario l'Inail interviene sul salario per il pagamento del 60% molte volte i lavoratori non sono a conoscenza di questa cosa e quindi non ricevono l'indenità fino a che l'infortunio non viene chiuso. La seconda parte invece in cui tuteliamo il lavoratore è una nuova parte che si chiama danno differenziale praticamente una volta attestato diciamo il danno biologico che l'Inail liquida al lavoratore e se c'è una responsabilità della ditta il danno differenziale è appunto questo la differenza tra il danno biologico e la responsabilità della ditta quindi con cause legali stiamo affrontando questo nuovo argomento. Dagli infortuni sul lavoro passiamo all'incidente mortale avvenuto ieri sul San Bartolo che vi abbiamo documentato anche nella nostra precedente edizione delle telegiornale. Il 50 tene venuto a mancare per tragico schiacciamento da un albero è Mario Zaffini tappezziere in pensione da nemmeno un mese con la passione proprio della cura delle piante. Zaffini infatti aveva richiesto l'autorizzazione a intervenire su quella quercia crollata in seguito agli smottamenti della recente alluvione. Ci stava lavorando da giorni aveva cominciato a tagliare a catastare legna ma le indagini dei carabinieri hanno ricostruito come l'albero abbia ceduto franandogli addosso e schiacciandolo fatalmente. Zaffini residente in via Lago Maggiore a Villa Ceccolini era sposato e padre di due figli. Cambiamo radicalmente argomento comincia giugno e il lungomare di Pesaro si presenta in versione sempre più estiva a cominciare da Viale Trieste che per il quarto anno consecutivo avvia da domani il suo assetto pedonalizzato. Inizia l'estate e torna all'area pedonale in Viale Trieste. Da oggi infatti non sarà più possibile transitare lungo Viale Trieste tra Viale Zara e Viale Marconi. Si dovranno per questo adottare soluzioni più green e sostenibile e saranno tre mesi in cui il cambio look porterà molto più colore con ai vuole con fiori colorati, palme lungo la strada e soprattutto per gli esercizi commerciali compresi nell'area pedonale sarà possibile situare all'esterno nei parcheggi che solitamente sono adibiti agli automobili tavolini e sedie. Questo è il quarto anno consecutivo ed è il proseguimento di un progetto iniziato nel 2020, quello appunto di realizzare quest'area pedonale sul lungomare che sarà anche quest'anno molto più spazioso, green e colorato con ai vuole piene di fiori colorati, nuove sedute e palme lungo la strada. Saremo così pronti ad un'estate che precede l'anno della Capitale della Cultura 2024. È stato riaperto il pezzo di strada compreso tra Viale Pola e Viale Rovereto in cui stanno piano piano scomparendo i detriti che venivano dalla demolizione dell'hotel Garden, i lavori comunque non si fermano per la costruzione del nuovo edificio. Continuano i lavori anche in piazzale d'annunzio, lavori che sono partiti da aprile e che dovrebbero finire a giugno. Il maltempo ha però fatto perdere quasi dieci giorni di lavoro e ad oggi l'obiettivo è quello di lavorare senza sosta per recuperare il tempo perduto e donare alla città di Pesaro un altro luogo caratteristico. Anche in piazzale d'annunzio aumenteranno le sedute per turisti e residenti e il casco di Valentino Rossi sarà posizionato sopra una piscina in stile palla di pomodoro. Parliamo di scuola. Tra le tante proposte dell'Istituto Tecnico Superiore Ipsi a Benelli di Pesaro ora c'è pure il salto di qualità nella sua proposta musicale. Una nuova vocazione all'insegna dell'inclusività che oggi è stata testimoniata da un concerto al Parco Miralfiore. Mattinata di festa per l'Istituto Superiore Benelli di Pesaro che al Parco Miralfiore saluta l'anno scolastico in via di conclusione riproponendo a distanza di anni il Benelli che spettacolo. Una declinazione canore musicale dell'Istituto Tecnico con gli studenti a mettersi in gioco in una nuova vocazione di creatività. È un evento musicale che ovviamente ha un significato pedagogico molto importante in quanto certo noi non abbiamo competenze del liceo musicale anche se comunque il maestro Mariotti, il professor Mariotti che appunto dirige il coro ha cercato appunto di far acquisire ai ragazzi delle competenze importanti però non sono certo nel nostro indirizzo di studio quindi voglio dire non vogliamo dare uno spettacolo di competenze di indirizzo di studio no. Loro fanno parte di un progetto, un progetto Benelli che spettacolo e questa è la parte del coro. Praticamente è un progetto inclusivo dove ognuno con le sue specificità, le sue competenze, i suoi bisogni, ognuno ha potuto dare praticamente il proprio talento, ognuno ha potuto dare un contributo. Poi c'è anche il palco, il palco l'abbiamo costruito noi, cioè l'hanno costruito i ragazzi dell'indirizzo meccanica quindi anche lì altre competenze sono state messe in gioco no? Quindi ognuno a secondo le specificità dell'indirizzo, i propri talenti e la propria passione e la propria voglia di fare ognuno ha messo qualcosa. Ho cominciato a vedere all'interno della scuola per capire chi è che aveva cantato e così via. Nessuno ha cantato, quindi il massimo che mi hanno detto ho cantato sotto la doccia, quindi praticamente niente, però si sono messi in gioco, si sono messi in gioco più di, sono circa 25 ragazzi, più di 25 ragazzi, si sono messi in gioco e sono venuti per mesi, tutte le settimane a fare una prova per questo coro. E questa cosa poi ha preso sempre più forma, abbiamo anche inglobato un'orchestra formata da professori e anche da ragazzi che suonano e suonano decisamente molto bene. Non solo cantanti e musicisti ma anche ballerini, scenografi e maestranze. A scuola faccio il corso di operatore alla riparazione dei veicoli a motore, mi piace meccanica, studio meccanica, sono l'unica ragazza in una classe di tutti maschi, mi piace molto quello che studio, mi piace l'ambiente, sto molto bene con i miei compagni, però allo stesso tempo sono una ballerina di danza caraibiche, ballo in coppia, ballo alla Stella Show dance e ho un partner, faccio le gare, sono un agonista, abbiamo vinto i titoli di campionati regionali, campionati italiani, Coppa Italia. Oggi andrò a ballare sulle note di Sound of Silence, cantata dal coro della mia scuola, mi è stato proposto questa cosa e ho accettato. Siamo più di 200 e quindi questo progetto trasversale che prende tutti gli indirizzi così è decisamente un qualcosa di bello per la scuola perché tutti i ragazzi hanno partecipato e quando li metti ai ragazzi, li metti in gioco, li metti davanti a qualche problema, a qualche responsabilità, i ragazzi rispondono sempre, quindi è bello. Restiamo in tema di Giovani, Giovani in Festival e questo il titolo della prima rassegna dedicata ai talenti che si terrà a Fano sabato e domenica. Sono qui per presentare Giovani in Festival, una manifestazione dove metto insieme gli artisti di vario genere, quindi pittori, scultori, fotografi, ma anche ballerini, cantanti, musicisti, comici, poeti, tutte le arti e in più di tutte le generazioni, quindi un incontro di arti e di generazioni. Questo alla Rocca Malatestiana di Fano il 3 e 4 giugno, il 3 nel pomeriggio alle 17 ci sarà l'inaugurazione della mostra, siete tutti invitati, ingresso libero. Nel dopo cena alle 9 e un quarto inizia lo spettacolo, quindi cantanti più di impostazione pop rock, cosa che invece la domenica sarà più sul classico, quindi balletto, musica classica, cantanti lirici, italiani e internazionali, anche lì poeti e una sorpresa per una cittadina pesarese molto particolare che di sicuro voi conoscerete. Il mattino della domenica già dalle 9 è aperta la mostra per tutta la giornata. Colgo l'occasione per ringraziare i nostri sponsor, abbiamo tra tutti quelli che hanno creduto in noi, innanzitutto l'assessore al turismo Etienne Lucarelli, poi la signora Coraffattori dell'assessorato alla cultura e Porfiri Casa, a cui si aggiunge l'Enterprise che ha una sede eccezionale molto bella a Pesaro. È il quadrifoglio che si occupa di prodotti sanitari, mentre l'associazione Maruzza si occupa di sensibilizzare la popolazione sulle cure palliative per l'infanzia. Poi abbiamo l'Albatros, il gruppo metaurense che ultimamente a Fano sta facendo scalpore perché ha prodotto un film, ha prodotto libri e attività culturali di vario genere. Sono Elmo Santini, presidente regionale dell'associazione Maruzza Marche. In questi giorni è il trionfo della Maruzza perché oltre a aver finalmente portato a termine il discorso dell'ospice pediatrico a Fano, proprio ieri in commissione regionale si è stata deliberata la formazione di medici e infermieri per organizzare l'assistenza sociale a casa per i bambini perché, come è nel nostro slogan, a casa è più meglio, dicono i bambini perché l'ospice serve per le fasi acute, gli altri momenti i bambini devono essere assistiti a casa. Crediamo in questo progetto, abbiamo creduto perché quando si parla di vita, si parla di festa e tutto quanto è questo, perché spesso si parla di ospice come punto dove si va a morire, tutt'altro, l'ospice è per la vita, noi siamo per la vita e quindi abbiamo creduto in questa manifestazione organizzata dal Doro Catalani, quindi per questo l'abbiamo sostenuta. Ecco, per altre informazioni info.dorocatalani.it oppure www.dorocatalani.it per tutto quello che volete, sono a disposizione. Ciao a tutti! Ed ora vi segnaliamo che martedì 6 giugno alle ore 21 nel cortile dei musei civici Matteo Ricci incontrerà stampa e cittadini per il racconto dei suoi nove anni da sindaco. Nell'occasione Ricci farà un bilancio fra cultura, infrastrutture, sport, turismo, sostenibilità e futuro della città in occasione della prima serata del San Pietrino Summer Street in Piazzetta Mosca. L'evento, nove anni da sindaco, sarà anche trasmesso in diretta su Rossini TV. Oggi, nel giorno di apertura della Fiera del Riuso, al Parco Scarpellini di Moragli è stato tagliato il nastro al nuovo ponte in legno che fa d'accesso al parco su via Ariosto. Un intervento del Comune di Pesaro da 30 mila euro finanziato attraverso parte dei contributi del bilancio partecipativo 2022 che ha consentito di sostituire il precedente ponte ammalorato e inagibile. Dal Parco Scarpellini passiamo al Parco Miralfiore dove domani 2 giugno verrà riproposto l'appuntamento Picnic e note annullato per maltempo lo scorso 1 maggio. Protagonisti in musica tante band del territorio, si esibiranno infatti Nameless, Babel, Riccardo Selci e Full Band e Joe Castellani e Blue Machine. E' stata anche presentata questa mattina nel Comune di Pesaro l'undicesima edizione di Sport in Tour, manifestazione organizzata dall'Unione Sportiva ACLI che per il secondo anno consecutivo torna a Pesaro per due weekend. Il 2 e il 4 giugno e il 9 e 11 giugno, due weekend fra sport, convegne e tavole rotonde che metteranno al centro la pratica sportiva, la sua riforma e la diffusione dei corretti stili di vita attraverso l'attività motorea. Sono attese a Pesaro oltre 3.000 persone fra atleti, tecnici e dirigenti. Le marche possono vantarsi di essere fra le regioni a maggior longevità d'Italia e a tal proposito oggi andiamo a celebrare un nostro concittadino pesarese che proprio ieri ha spento 100 candeline. 31 maggio 1923. Ha soffiato ieri 100 anni il pesarese Tonino Guidi, festeggiato con torte e candeline nella sua casa di via Ponchielli, sommerso dal calore dei suoi cari. Un secolo di vita che dalle sue espressioni emozionate non deve essere stato facile portarsi sulle spalle. Adesso come sta lei? Come si sente a 100 anni? Male, perché siamo molti anni. Però è contento che oggi c'è stata tutta questa riunione della sua famiglia per festeggiare insieme questi 100 anni. E' felice immagino? Sì, sì, sì. 100 anni raggiunti vivendo momenti felici abbracciato alla sua famiglia, ma anche indelebili come la Seconda Guerra Mondiale. Due figli, Oriella e Dario, che raccontano con il sorriso stampato sul volto questo traguardo inimmaginabile di loro padre. Ve lo sareste mai aspettato di arrivare voi a questa età con ancora un padre? Ma non arrivo di sicuro a 100 anni io. Ce la mettiamo tutto per arrivare. Com'è che persona è stata nella sua vita e che persona ancora attualmente è Tonino Guini? Cioè è stato bravo, ha sempre lavorato, noi eravamo contadini, io sono stata contadina fino a 18 anni, mio fratello più piccolo, 10 anni di meno, però siamo stati bene. In famiglia eravamo in 13, 12, 13, perché c'erano gli zii, c'erano i nonni, però da contadino si passava delle belle giornate, insomma, ecco. Un lavoratore instancabile Tonino. È proprio il suo tenersi attivo che secondo lui l'ha portato a vivere fino a questa età. Dall'impegno nel campo agricolo con suo padre fino alle mansioni in prefettura. Ho lavorato da là, da qua, ho già dato la vita, ho fatto il contadino un po', un po' il contadino con mio padre e dopo sono andato a lavorare fuori. Ho lavorato a Rabenelli e poi dopo c'erano i vetri, ne favo i vetri, e poi in prefettura. In prefettura quanto ha lavorato? 45 anni. Che ruolo svolgeva? Faceva le patente, faceva tutto, tutto. Andava a posta a prendere la posta, andava in banca, andava a fare molto. Dove anni a Milano, in prefettura, sempre. Ha preso la lavorazione? E poi ha preso la lavorazione. Ricordi sbiaditi ma impressi nella mente di quel 1944, quando Tonino andò al fronte nel nord Italia. Sono i parenti a raccontarcelo perché forse lui quei momenti dolorosi li ha voluti cancellare. E' stato in guerra? No, 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 no. In guerra no. Sì, è stata in guerra. Hai rotto il dito e lì... No, è in guerra, è a casa. Questa casa. Passa le giornate guardando la tv, ma anche affacciandosi alla finestra della sua cucina, osservando la vita che scorre. E quando gli chiediamo la ricetta culinaria per conservarsi così in forma fino a quest'età, ci risponde... Si è roba buona. Cattiva mai. Campo. Sempre proprio buono, ho mangiato. Prodotti di campo, quindi? Sì, del campo, sì, 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 sì. E vino rosso, diceva anche? Vino rosso? Sì, sempre, sempre. Da mio padre, sì, quando mangiavamo, sempre rosso. Vino rosso? Sempre rosso, sempre. I figli, i nipoti e pronipoti hanno riempito d'amore il cuore di Tonino, anche in un momento delicato come la scomparsa, 17 anni fa, di sua moglie Maria. Una donna buona, come raccontata dai figli Orielle e Dario. Che donna era? Ma buona, buona. Eh sì, dai. Mia mamma era brava. Come è stata questa notizia per lui? Beh, per me è stata brutta. Come ha reagito Tonino? Come avete reagito voi? Dio noi, è stato un bel... Perché lui abita a Gallo, è lontano da casa, è stato duro, molto duro. In questo giorno di festa, tra ricordi, sorrisi e abbracci, non è mancato neanche l'augurio di buon compleanno da parte del sindaco Matteo Ricci. Quando si festeggia a 100 anni, quando mi chiamano cerco sempre di andarsi perché è sempre un'opportunità per festeggiare con la famiglia, con i nipoti, con gli amici, con tante persone che l'hanno visto appunto da quando erano bambini, da quando sono nati. Quindi anche qui sono venuto a festeggiare Tony. Oggi è una bellissima famiglia, una bella festa, una famiglia popolare della nostra città e quindi tanti auguri a lui e speriamo davvero che i centenari siano sempre di più. Concludiamo il nostro notiziario segnalandovi un concorso di bellezza di prestigio che si terrà sabato 3 giugno nel ristorante Dancing La Giara. Sabato 3 giugno al ristorante La Giara di Pesaro verrà fatta la finale regionale del concorso internazionale di bellezza Miss Grand International Italy 2023. Siamo nelle Marche, quindi regione Marche. Perché? Perché cercheremo di portare delle ragazze, le più meritevoli in un qualche modo, le più gettonate, quella che la giuria riterrà più opportuno, le porteremo in finale nazionale. Abbiamo due categorie, le mascotte 13-17 anni e invece le Miss Grand che hanno 18-28 anni. Per le mascotte la, come si dice, l'avventura in un qualche modo finisce al nazionale. Mentre per le grandi chi va al nazionale saranno due ragazze, avranno l'opportunità di giocarsi il mondiale perché ad ottobre partiranno per il mondiale. Avremo una cena spettacolo con un'anteprima di una degustazione di una cantina molto importante, Biagi Vini, quindi con le sue bollicine. Poi partiremo con la cena ottima della giara perché come sempre la cucina della tradizione sono sempre all'avanguardia per quanto riguarda gli eventi, sia culturali, di divertimento, per la famiglia, così. E quindi ci fa piacere che abbia ospitato questa serata. Si conclude qui il telegiornale Rossini News ma non si conclude l'informazione sul canale 80 perché subito dopo il Tg alle 20.10 parleremo di agricoltura con il nostro speciale realizzato ad Urbino nell'ambito dell'incontro Vivi opportunità del PSR Marche. Andremo a vedere la presentazione delle nuove emissioni 2023 per l'agricoltura di domani. A seguire alle 21.20 andremo sul Monte Nerone con le nuove attività proposte dal rifugio Chalet Principe Corsini come l'inaugurazione di un nuovo parco giochi per bambini e la nuova tabella sentieristica come detto al rifugio Chalet Principe Corsini sul Monte Nerone. E ancora a seguire alle 21.40 parleremo dei grandi risultati della raccolta differenziata nel comune di Pesaro. Domenica ha fatto visita in città Capitano Acciaio, questo curioso supereroe legato al consorzio Ricrea che ha premiato la città per i suoi risultati raggiunti nel recupero degli imballaggi in acciaio. Si conclude qui il nostro telegiornale. Prima di salutare vi ricordo che domani venerdì 2 giugno essendo giorno festivo non ci saranno gli spazi informativi di Rossini TV in occasione appunto della festa della Repubblica. Tornerà però la rassegna stampa Buongiorno Rossini sabato 3 giugno come sempre in diretta a partire dalle 7.20. Il telegiornale Rossini News tornerà invece lunedì 5 di giugno come detto nel nuovo orario delle 19.30 con prima replica alle 20.30. E' davvero tutto per questa sera, vi auguro una buona serata, una buona festa della Repubblica e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi.